Sapete qual è una roba che mi fa incazzare di brutto nei videogiochi? Quando ti finisci tutte le quest secondarie, prendi tutti i collezionabili, sblocchi trofei, segreti, easter egg, e alla fine della quest principale ci lasci la buccia. Come in Red Dead Redemption ad esempio. Sì certo, John Marston non è che sia proprio uno stinco di santo, ma dopo aver giocato con lui l'intera avventura io mi ci ero affezionato. Comunque come recita il proverbio, quel che semi mi raccogli. E lui in effetti ha seminato parecchio piombo. Oppure in Halo Reach, in cui la battaglia finale ci metterà davanti a un'orda di covenant così schiacciante che alla fine soccomberemo senza alcuna possibilità di sopravvivere. E come dimenticarsi di Shadow of the Colossus? Un intero gioco passato a sconfiggere nemici titanici, per poi venire scammati dall'entità che ci ha affidato la missione e fatti fuori da un gruppo di minuscoli umani. Bella fregatura!